Il mio intervento sarà molto sintetico e breve, anche perché si tratta di un argomento talmente complesso che richiederebbe soltanto lui un seminario a parte. Parlo dello Stato tra religione e ragione, parlo dello Stato tra il multiculturalismo. La mia presenza qui è soprattutto in funzione di un recentissimo dibattito, seminario, a cui ho partecipato a Tunisi, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza con l'ottimo collega Professor Mescici e con l'organizzazione del nostro già ammiraglio Fabio Ghia, che era l'addetto militare nell'ambasciata italiana. Il tema era proprio questo. In buona sostanza, può uno Stato islamico, può uno Stato arabo diventare uno Stato democratico? Ecco, questo è il concetto. Non è mica facile, considerato che la sciaria è fondamentale nel mondo islamico e permea ogni aspetto, ogni movimento della vita dell'islamico. Cioè, dalla mattina alla sera tutto è incentrato sulla religione. Allora, questo discorso della religione che permea la politica e la politica che viene permeata dalla religione è un po' il centro, la colonna portante di questo aspetto fondamentale. Può uno Stato arabo essere, uno Stato arabo islamico, essere democratico? Beh, sappiamo tutti che la democrazia non si esporta e neanche si impone, e l'abbiamo visto anche recentemente con i fatti che sono avvenuti in Medio Oriente e che continuano purtroppo a avvenire. La democrazia è qualcosa che si forma culturalmente, è qualcosa che si crea nel tempo, nello spazio, ci vogliono secoli. Qualche popolo ancora oggi aspetta Garibaldi, e allora è evidente che non si può imporre così dall'alto. Ci vuole il tempo, ci vuole il tempo necessario. Mi sono particolarmente soffermato su questo tragico aspetto di questo ragazzo, questo povero uomo che si è dato fuoco, no? Nell'Avenue Burghiba. Si è dato fuoco con i libri accanto, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco con i libri accanto. Perché i libri accanto? Perché è come un segno evidente, no? Ci avete fatto insegnare, ci avete dato i libri, ci avete dato la cultura. Che serve la cultura se io non riesco neanche a vendere i miei ortaggi? Pazzesco, pazzesco, no? E da lì la rivoluzione. Ora, qual è il problema? Che differenza c'è? Non è stato laico o non è stato non laico? No, è lo Stato laico. Sappiamo perfettamente la differenza tra Stato e Chiesa, come avviene nell'Italia, no? La nostra Italia. Oppure è lo Stato che ha una unicità di poteri, cioè può interferire nella sfera religiosa, ma la sfera religiosa non può interferire in quella politica. E qui di nuovo ritorno alla domanda. Ma com'è possibile nel mondo arabo? Dove, centrale, le istituzioni religiose, le fondazioni religiose svolgono un ruolo importantissimo. Si sostituiscono allo Stato. E può oggi una Tunisia, per esempio, molto debole dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, sostituirsi alle fondazioni religiose, che sono quelle che sostengono molte collettività? Eh, non è facile. È evidente che i salafiti hanno il loro seguito. È evidente che i caetisti hanno il loro seguito. E quanto pompano in Tunisia? Perché la Tunisia, che potrebbe essere un faro di democrazia, di sviluppo della democrazia nel mondo delle primavere arabe, invece soccomba. E quanto si danno da fare i caetisti e i salafiti? Io ho visitato la Tunisia un sacco di volte, devo dire, ma l'ultima volta, forse 4-5 anni fa, adesso non mi ricordo. Ma l'ho trovata completamente diversa. Le donne velate. Ma quando mai? Mai visto le donne velate. Cioè tutto un sistema anche incredibile, no? Allora io mi sono divertito a chiedere alle mie studentesse, c'erano molti studenti, ma io ho sentito, scusate, ma voi siete contenti di questa situazione? Cioè la sciaria, il rispetto, l'uomo, la differenza è l'uomo, l'uomo è la donna, insomma tutti questi aspetti che per noi occidentali sono qualcosa, insomma, di là di là del mondo. Allora voi siete contenti? Qualcuno mi ha detto, vabbè, noi a casa comandiamo, fuori non comandiamo, almeno facciamo finta di non comandare, ma a casa comandiamo noi. Comunque mi hanno risposto di sì. E allora capite che qui comincia un momentino, questo mondo comincia a scricchiolare, perché per uno che è abituato a pensare il sistema democratico, il sistema partito, l'uguaglianza, l'uomo, la donna, eccetera, eccetera, sentirsi rispondere così evidentemente c'è qualcosa che deve essere un momentino un po' verificato e sviluppato. Un altro tema fondamentale è quello delle minoranze. Allora, com'è possibile imporre una democrazia in uno Stato non laico evidentemente, o semi laico, dove però ci sono delle minoranze. Le minoranze religiose sono importanti, anzi quelle attive sono ancora più importanti delle altre, cioè sono il nervo della politica a volte. E queste minoranze religiose come le vogliamo tutelare? È evidente, noi nel mondo liberale la risposta è facile, devono partecipare tutti, devono tutti avere la possibilità di essere eletti e di eleggere, eccetera, eccetera. Ma non è così nel mondo islamico, perché per esempio in Libano esistono delle circoscrizioni religiose. E queste circoscrizioni stabiliscono che soltanto la maggioranza può votare o può eleggere alcuni membri, e gli altri non hanno voce in capitolo. E anche questo aspetto è un aspetto importante che sta verificando, si sta inserendo nella mentalità, nel mondo arabo. E ora voi mi direte, vabbè, allora però esiste un sistema, no? Qual è? Quello dell'istituzionalizzazione di qualsiasi religione. No? Istituzionalizziamo la religione. Come per esempio avviene nel mondo britannico, no? Allora direi che il mondo arabo potrebbe benissimo guardare al mondo britannico come un modello. Certamente non a quello indiano, perché il mondo indiano nega qualunque istituzionalizzazione della religione nell'unione indiana. Ma nel mondo britannico sì. Però, caso strano, vedete, Cameron, per esempio, dice la dottrina del multiculturalismo di Stato ha incoraggiato culture differenti a vivere separate, sia individualmente che nei confronti della cultura più diffusa. E dice, è tempo di passare a un liberalismo attivo che ruoti attorno a valori fondanti come la libertà di espressione, l'uguaglianza dei diritti e il primato della legge. Una società passivamente tollerante, ecco quindi il concetto fondamentale di Cameron, rimane neutrale tra valori differenti. Ma un paese davvero liberale fa molto di più, e cioè crede in certi valori e li promuove attivamente. In buona sostanza, Cameron dice, il multiculturalismo di Stato è fallito. Quindi non funziona, bisogna cambiare sistema. E allora, è evidente che in i paesi delle primavere arabe, allora, il concetto delle confessioni religiose e della democrazia, a mio avviso, ci porta ad una conclusione, qual è? Quella di avere distanza, cioè che ci sia una certa distanza tra politica e religione, anche se non di netta separazione. Questo è un concetto che, a mio avviso, si potrebbe un momentino un po' raffinare. Poi, ovviamente, c'è il discorso degli Stati multietnici, anche questo di Stato multietnico, anche l'etnia, è un altro aspetto fondamentale. Pensate ad esempio in Tunisia, ma insomma anche in Libia, ci sono i berberi qui che hanno una loro cultura, una loro spinta politica, eccetera. Quindi, insomma, è evidente che qui c'è un problema, soprattutto nel mondo arabo, che va un po' cercato di risolvere alla base. Tenendo presente che tutti, poi, invece, tutti i paesi del mondo hanno un altro problema, che è quello dell'indebolimento dello Stato-nazione. Un indebolimento che è funzione della globalizzazione. Cioè, lo Stato non riesce più ad ammortizzare le conseguenze sociali di un mercato globale, come invece è accaduto nel corso del XX secolo. Quindi anche noi occidentali abbiamo dei problemi, perché non riusciamo più ad ammortizzare questi fenomeni. Perché, in fine conti, la globalizzazione è omologa, ma non universalizza. La globalizzazione comprime, ma non unifica. E questi sono aspetti fondamentali, che valgono sia per il mondo occidentale che per il mondo islamico, che ha maggior ragione. Quindi c'è un'altra ragione in più, allora, oltre quelle che io ho appena accennato. Molto interessante, mi sembra, l'esperimento degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti, fin dei conti, in mezzo a tutte queste religioni, in mezzo a tutte queste etnie, in mezzo a tutte queste difficoltà, che cosa hanno creato? Hanno creato una nazione fortissima, fortissima, perché hanno creato una religione di Stato. Una religione di Stato verso la quale tutti guardano, anche se provengono da direzioni completamente diverse, sia in senso etnico, sia in senso religioso, sia in senso geografico. E una religione di Stato è qualcosa che, diciamo così, di virtuale, ma non è virtuale, dove tutti si ritrovano, dove tutti si associano. Ecco, forse questo tipo di impostazione, a mio avviso, può essere più interessante per il mondo islamico, che a mio avviso necessita di un processo di maturazione verso la democrazia, che ancora necessita un po' di tempo. Un ultimissimo accenno all'Italia e nel Mediterraneo. Io ho sempre sostenuto che l'Italia deve guardare di più al mondo arabo, al mondo islamico, al mondo, all'altra sponda del Mediterraneo. E questo per tre ragioni fondamentali. La prima è che è meglio tenerli amici e collaboratori e insieme cooperare per il nostro reciproco sviluppo, perché guardate, l'Africa, la popolazione dell'Africa, fra una ventina e trentina di anni, raddoppia. Raddoppia. Allora, o questi paesi, che rappresentano un po' la punta del confine, riusciranno un momentino ad assorbire, a trovare il modo per, insieme a noi, di meglio convogliare queste forze africane che si stanno formando, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, oppure qui ci saranno dei problemi. Un altro discorso riguarda ovviamente le fonti energetiche, ma poi soprattutto la possibilità per le nostre imprese, per le nostre economie, di trovare nel mondo arabo, nel mondo medio orientale, degli spazi che forse altrove oggi non sono ancora, sono un po' diminuiti. Io mi scuso per la sinteticità e mi scuso anche perché purtroppo devo lasciare questo convegno, perché ce n'è un altro a trovare, mi spiace, ma devo lasciarvi, quindi mi spiace con il dibattito e vi ringrazio molto per l'ascolto. Grazie. Applausi 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 Applausi